Musica Musica Basket Time, la casa del basket campano, la casa dove si incontrano tanti amici dove parliamo di basket a 360 gradi, focus particolari, oggi faremo un focus sul mercato ricordando che il 28 febbraio era una data importante per le squadre campane, ma parliamo dalla Serie A fino alla Serie C Gold con un occhio particolare naturalmente a tutte le realtà della nostra regione. Padrone di casa Leonardo Balletta, ciao Leo. Ciao Lucio, buonasera a tutti. Allora, iniziamo dalla Serie A, torna a giocare la Serie A, il campionato, poi parleremo delle due coppe che hanno veramente regalato grandi emozioni, anche grandi sorprese, sia la coppa per quello che riguarda la Serie A2, ma anche quella della Serie Femminile. Sì, decisamente, pronostici per certi versi bruciati, soprattutto per quanto riguarda il tabellone rosa, però sì, tante emozioni, un weekend comunque è bello pieno anche questo, nonostante fossero fermi i campionati di riferimento. Avevamo detto di Avellino, avevamo detto anche di questo acquisto importante da Cantù, però la sfida con Trento è andata male, anzi direi malissima. Sì, ne è uscita fortemente ridimensionata la Sidicas, chiaro che Trento non è più la squadra affrontata nel giorno d'andata, ricordiamo Avellino gli rifilò 38 punti ai Trentini, una Trento che ha fatto una gran fatica a staccarsi dall'ultimo posto, però poi, come spesso è accaduto negli ultimi anni, è riuscita piano piano a rimontare, adesso è in striscia positiva, ha vinto quattro delle ultime cinque partite, ha un playmaker nuovo che in questo campionato fa la differenza che è Aaron Kraft, però certo questo non spiega perché Avellino sia tornata dal Trentino con 18 punti sul gruppone e al termine di una partita in cui potenzialmente gli irpini non ci sono mai stati. Quindi bilancio negativo, anche perché si sperava che con una settimana di riposo, quantomeno di allenamento, senza più la Coppa Europea, si potesse in qualche modo recuperare un po' di terreno perduto, soprattutto in termini di condizione fisica, così non è stato. Vucinic ha parlato di un approccio molle e questo onestamente non può succedere in una fase del campionato come questa. Brutta sconfitta, da cui vengono fuori e si salvano solo il solito Caleb Green, che ha avuto una prestazione offensiva ancora una volta stralipante, è proprio Udano, che è il nuovo arrivo, che rappresenta un colpo importante per questo mercato, che non ha regalato grandissimi squilli in Serie A1. Avellino tra l'altro per lui ha pagato anche un buyout di 25 mila euro, che oggi come oggi non sono neanche pochi a Cantù. Lui ha avuto un ottimo impatto, dicevamo, statisticamente partita completa, 17 punti, 7 rimbalzi, 6 assist, un giocatore totale di grande energia, direi che da questa energia un po' la Sidigas debba ripartire. E a proposito sempre di Avellino, ricordiamo anche il prossimo incontro contro Varese al Palo del Mauro, ci aspettiamo una squadra diversa. Assolutamente, anche perché con Varese sarà l'ennesimo spareggio di una classifica che alle spalle di Milano oggi è cortissima, in cui sono rientrati un po' tutti la stessa Trento, che ribadiamo era ultima a metà del giorno di andata a 0 punti e che adesso con 20 punti si gioca l'accesso nella griglia. C'è tantissimo equilibrio tra la quarta posizione e la decima, tutto ristretto in pochissimi punti, e Varese in questo momento ha gli stessi punti di Avellino, 24. Avellino ha vinto lì, quindi ha la possibilità di chiudere un 2-0, che sarebbe fondamentale appunto per fare un discreto passo avanti in classifica. Eh sì, è un campionato strano questo, Leo, è un campionato dove c'è Milano che sta facendo benissimo Neurolega e poi inciampa in Coppa Italia, in campionato forse non è la fase calda e quindi la squadra di Pianeggiani non dà quelle stesse sicurezze, e poi vediamo anche che magari Pianeggiani è un po' messo sulla graticola perché la delusione in casa Armani per l'uscita prematura dalla Coppa Italia un po' ha lasciato il segno. Allora noi parliamo sempre di una competizione breve, allora magari in Coppa Italia può succedere che Cremona riesca ad alzare la Coppa. In campionato è un po' più difficile, però Milano non è la schiaccia sassi che ci aspettiamo. Beh, diciamo che ha delle pause, non è sicuramente una schiaccia sassi, anche se al momento le pause le sta avendo anche Venezia, che è di diritto la contender ufficiale per lo Scudetto, non vive un buon momento neanche la formazione lagunare, ha vinto solo all'ultimo tiro a Bologna, però questa al momento resta la coppia che potenzialmente si candida per la finalissima. Chiaro che poi c'è Baruffa dietro, c'è Cremona che tra le contender al terzo posto, comunque alla semifinale, resta quella con maggiore continuità, anche perché pare che veramente quest'anno non abbia sbagliato nulla in serie di campagne acquisti. E poi dietro, vedi, ci sono alti e bassi, c'è Avellino che va avanti a strisce positive e negative, c'è la Virtus Bologna che sembrava essersi ripresa e quindi invece adesso ha sciupato il big match con Venezia, perdendo in casa, avendo rimontata in maniera clamorosa. Quindi diciamo si fa fatica dietro a capire chi potrà poi essere la mina vagante dei play-off. Chiaramente l'augurio per noi è che lo diventi Avellino, che ha le carte per diventarlo, anche perché poi, lo ribadiamo anche questa volta, a questa squadra manca quello che è il suo sciamano, il suo leader mentale, che è Dimitri Nichols. Si sperava di poterlo avere a Trento, poi alla fine non l'hanno voluto forzare, però con Varese dovrebbe esserci. Lui è un giocatore sicuramente importante per qualsiasi tipo di equilibrio che questa squadra possa e voglia avere. Che poi parlavamo anche di Avellino, di come era partita la stagione con Cole, ora tu parlavi anche di La Virtus Bologna. Insomma, i campioni NBA sembra che sono attratti dall'Italia, ed è una cosa molto particolare. Sì, detto in questi giorni qui, fa ancora più specie, perché effettivamente su Cole si era parlato molto quest'estate, sull'onda del caso Ronaldo, che potesse anche lui riaprire la porta del mercato italiano, che per qualche anno era sembrato poco appetibile agli americani. Effettivamente, dopo l'arrivo di Cole, che poi sappiamo tutti è ripartito da Avellino, ora c'è l'arrivo di Mario Chalmers, a sorpresa, un grande regalo che il club ha potuto fare ai propri tifosi. Chalmers tra l'altro era il titolare di quei Miami Heat, di cui Cole poi era il primo backup dalla panchina, Playmaker, un grandissimo tiratore, un giocatore che dopo un paio di infortuni quest'anno aveva provato ad aspettare per fare la squadra in NBA, non ci è riuscito, e quindi tra virgolette si è rassegnato a quella che per tutti loro l'opzione B, cioè venire in Europa. Cole c'era già stato l'anno scorso al Maccabi, per lui sarà un esordio assoluto, ha sostenuto le visite mediche, sono andate bene, è sicuramente un grande protagonista recuperato dal nostro campionato. E sì, poi di mercato, soprattutto per quello che riguarda le squadre della campagna, ne parleremo in un focus, in un approfondimento, nel secondo blocco della trasmissione, però ora cambiamo argomento, dalla Serie A passiamo alla 2, era tempo di Coppa, e se solo andiamo a vedere le squadre che hanno partecipato a questa Coppa, sembrava la Coppa Italia le Final 8 di qualche anno fa, però di Serie A, non di A2. Beh, sì, perché quest'anno, almeno le classifiche lo dicono, al di là del blasone, ci sono tre corazzate, o comunque tre piazze storiche come Fortitudo, Treviso e Roma, che in questo momento mantengono le primissime posizioni nel girone est e nel girone ovest. Roma guida appunto il girone ovest e nel girone est invece ci sono Fortitudo prima e Treviso terza. Quindi sono grandissime protagonisti annunciate, una di loro presumibilmente non coglierà la promozione diretta e quindi dovrà fare i play-off, però sì, grandissimi nomi e squadre che si sono calate in questa competizione, questa Coppa Italia di Serie A2, che sicuramente non ha l'appeal della Coppa Italia principale, che magari all'inizio hanno anche giocato con un po' di sufficienza, perché sai, in questa fase del campionato è difficile creare motivazioni supplementari a chi si sta giocando il bersaglio grosso, appunto la promozione, però poi la finale è stata veramente partita vera, Treviso ha battuto la Fortitudo, tra l'altro c'è la grandissima rivalità, c'erano le tifoserie al completo giù a Porto San Giorgio e quindi sì, sicuramente l'Il Blasone ha pesato parecchio, soprattutto la voglia di non perdere. E poi anche qui alla fine le addizioni che fanno la differenza, è arrivato Logan, giocatore che aveva vinto anche lo Scudetto con Sassari, ma giocatore di grande esperienza, ma uno che è veramente disposto all'equilibrio soprattutto in A2 e poi è arrivata la vittoria. Magari come ti sposta un giocatore, un mercato, come può indirizzarti una stagione e ribaltartela anche? Assolutamente, in finale abbiamo visto i due grandissimi acquisti di questa finestra di mercato per la Serie A2 perché appunto Treviso presentava Logan che è stato attratto, è stato portato in A2, lui è stato sempre in Serie A1 in questo campionato negli ultimi anni, comunque sempre ai vertici europei, ha accettato l'A2 di Treviso perché gli hanno offerto un contratto clamoroso, si parla addirittura di 25 mila dollari al mese oltre ai bonus, quindi un contratto importante per questo campionato e devo dire la verità è un giocatore che ha messo subito la sua impronta sulla squadra, io l'ho visto dal vivo contro Bergamo in semifinale, ha giocato in pantofole e ha timbrato tutti i momenti importanti di una partita che Treviso non riusciva a chiudere, è stato grandissimo protagonista, poi è stato protagonista anche nella finale con la fortitudo e indubbiamente l'MVP. Sul fronte bolognese c'era però Carlos Delfino che è comunque un giocatore che ha oltre 500 partite in NBA e che appunto due giorni prima dell'affare Logan a Treviso ha accettato di firmare per la sua fortitudo dove torna dopo tanti anni quindi anche questo è un colpo importante. L'impatto di Delfino si è sentito un attimino meno è un giocatore che magari deve ancora rientrare nel ritmo partita però è un altro giocatore sicuramente importantissimo per quella che è la categoria. Scafati Scafati che giocherà mercoledì sera una partita importante Scafati che anche si è mossa sul mercato Sì Scafati la stagione di Scafati è stata costantemente caratterizzata quest'anno da una serie di cambiamenti spesso e volentieri condizionati dalle contingenze è chiaro che per loro che erano partiti comunque con tante ambizioni è stato difficile tornare a galla e ora c'è stata questa doppia pausa perché ricordiamo Scafati doveva giocare con Biela la settimana prima della Coppa Italia non ha giocato giocherà appunto mercoledì in recupero al Palamangola in questo momento sono rientrati diciamo in scia per i playoff questa è una squadra che in questo momento può guardare avanti senza grosse pressioni senza dimenticare che comunque il presidente Longobardi è molto esigente però senza grosse pressioni con la possibilità appunto anche in questo caso come per Avellino di diventare una rischietamina vagante sia per i giochi playoff e poi eventualmente anche in tabellone perché comunque Scafati ha due americani importanti e ha tanti giocatori importanti Poi la Lega 2 l'abbiamo detto è un campionato davvero particolare con tante piazze importanti e blasonate però in questi giorni ci sono due casi che tormentano un po' la Serie A2 un post cervellotico del direttore sportivo di Treviglio Massimo Gritti che insomma ha insultato in maniera pesante anche i napoletani si parlava di calcio della sfida tra il Napoli e la Juve però voglio dire l'offesa è diretta e poi anche di quello che sta succedendo a Siena è davvero incredibile Sì diciamo sarebbe stato meglio per un campionato come questo alla ricerca di visibilità appunto trovarla in altre occasioni però sì la realtà dei fatti è che Si è mosso anche Petrucci contro Massimo Gritti Sì negli ultimi due giorni questo post è stato ha avuto grandissima visibilità è stato riportato all'attenzione di molti penso da Mario Canforo della Gazzetta nella mattina di lunedì e poi lo hanno riportato tutti anche i siti specializzati sì un post importante è estremamente offensivo a mio avviso io sono intollerante da questo punto di vista nel senso che per me andrebbero combinate multe a destra e a manca perché la libertà di esprimersi su Facebook non può diventare la libertà di offendere chiunque nel caso specifico però in quello che è un mondo di tolleranza cioè il mondo sportivo del tifo secondo me troppa tolleranza c'è il fatto che questo sarebbe un personaggio pubblico sarebbe un dirigente sportivo da cui ci si aspettano altri tipi di esempi o comunque altri tipi di comportamenti e quindi è chiaro che questo comportamento e quel posto andasse stigmatizzato lo ha fatto in un primo momento buona parte della tifoseria napoletana e meridionale e poi lo ha ribadito la Liga Palla Canestro con un comunicato firmato dallo stesso Basciano che è il presidente dunque diciamo una reazione importante da quello che è il mondo della Palla Canestro nei confronti appunto di quello che sicuramente sarà stato uno sfogo di pancia ma che resta comunque un comportamento sbagliato secondo me è importante in questi casi in un rapporto sempre più conflittuale e complicato che sia tra lo sport e i social che qualcuno cominci a regolamentarlo se non sono capaci i titolari dei profili forse è il caso che si facciano delle regole in modo tale che queste cose poi perdano quota allora Leo prima di andare in pubblicità proprio in un flash Coppa Italia di femminile della serie A femminile Vittoria di Ragusa contro Sesso San Giovanni grande sorpresa del torneo sì anche in questo caso la formula regalato delle sorprese ribadiamo questa è una formula fantastica perché ribalta i pronostici in maniera eccezionale e quindi capita che nelle final eight di Coppa Italia che sembravano già scritte le protagoniste annunciate cioè numero uno numero due del tabellone Venezia e Schio vengono eliminate in semifinali e se da una parte c'è comunque Ragusa che è un'altra delle grandi protagoniste del campionato che approda in finale e poi vince la Coppa dall'altra c'è il GS Sesso San Giovanni che a questa Coppa non avrebbe neanche dovuto partecipare perché era nona fino a un mese e mezzo fa poi il ritiro della Diche e di conseguenza è scalata all'ottavo posto è approdata le final eight ed è arrivata fino in fondo a giocarsi una serata magica comunque si è andata è incredibile facciamo così ci fermiamo poi focus di basket time sul mercato perché è giusto anche approfondire tutti i temi e magari daremo i voti i promossi i bocciati e poi chissà se queste addizioni risulteranno decisive per il proseguo del campionato e la fase calda i playoff e poi le eventuali promozioni pubblicità grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.